Ciao amici telespettatori, siamo sempre nella rubrica dei video messaggi d'amore e questa sera vi voglio presentare una coppia veramente innamorata. Si tratta di... Patrizia Patrizia e... Michele e Michele. Quanti anni hai Patrizia? Io 40 e Michele? 45 Da quanti anni siete sposati? 19 Avete questo figlio che è? Due bambini, due figli, una ragazza di 17 e lui di 12 e siete di... di Termini Merese e lui? Sì, anch'io di Termini Allora Anche lui Ti consegna il mio bambino Vabbè Ok, Stran Amore Siciliano questa sera vi dà la possibilità di fare un video messaggio d'amore per dimostrare al pubblico di Stran Amore Siciliano quant'è che vi amate Dice anche il senso Praticamente vi facciamo fare un video messaggio d'amore prima a te e poi a lui come se lui davanti a te non ci fosse e tu dovresti dimostrare con le parole e giusto quant'è che l'anni Prima tu e poi lui Ok? Allora, fai il tuo video messaggio d'amore rivolto a tuo marito Non è molto semplice comunque Che potrei dire? Noi ci conosciamo da 20 anni Sei stato sempre il mio primo unico grande amore e spero che lo resterai sempre il mio grande amore Adesso passiamo a Michele Anch'io condivido lo stesso pensiero di Patrizia e di mia moglie e sicuramente per me sarà il mio unico grande amore e ci ameremo in eterno e si è fatta la volontà di Dio insomma, grazie Bene amici abbiamo sentito il favoloso video messaggio che hanno fatto Patrizia e Michele Complimenti Grazie Complimenti Senza dubbio Va bene Complimenti anche per il vostro figlio Come ti chiami tu? Marcello Marcello e quanti anni sei? No, è 13 Vuoi bene a mamma e papà? Certo Quanto? Assai Vuoi bene più a mamma o a papà? Tutte e due uguali Va bene amici Ripeto, abbiamo sentito il video messaggio d'amore di Patrizia e Michele Ciao da Alberto Ciao da Patrizia E ciao da Michele E ciao da Marcello Ok amici, a dopo Ciao Oh yeah